Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard Siamo qua nel nuovo evento Ring Domination Bill Goldberg Signori, spero che voi possiate prendere questa seconda carta, farla pro e addirittura farla pro eroe Diventerà la carta più potente e bestiale di questo gioco ragazzuoli Io purtroppo come al solito non posso arrivare ancora alla carta evento ma posso firmarmi alla carta titano Però ragazzi ci pensiamo dopo perché prima ci sono delle bellissime novità Come avrete sicuramente visto c'è la nuova camera di fusione con 3 nuove carte, anzi nuove carte, 2 le abbiamo già viste Ma c'è Shinsuke Nakamura, il campione, il vincitore, colui che è rimasto sul ring della Man Standing della Royal Rumble Shinsuke Nakamura come carta di questo evento che dura praticamente 2 settimane, 14 giorni Andiamo a vedere come funziona questo evento Allora, non è una solita camera di fusione, questa camera di fusione forse ricorda un po' quel era nella prima stagione Dove le carte tributo non erano casuali in modo da raggiungere un tot di punti Ma qui dobbiamo mettere delle superstar che possono essere, per esempio abbiamo AJ Styles, quello ultimate che io ho addirittura Quindi possiamo anche metterlo Poi abbiamo Finn Balor, quello dell'evento di Natale Poi Big E credo sia titano E così via a girare queste altre carte Quindi per avere Shinsuke Nakamura dobbiamo per forza dare in tributo queste carte qua E poi abbiamo altre camera di fusione, qui abbiamo Finn Balor, quello dell'evento di Natale Io potrei farlo pro, sinceramente, cioè adesso non so se ho tutte queste carte, credo di no assolutamente Però questa carta mostro di Finn Balor ce l'ho una Una presa dall'evento di Natale, quello che... Credo che l'ho preso durante la Ring Domination mi sembra Era Ring Domination, sì E quindi uno ce l'ho, non l'ho ancora buttato via, lo tengo lì da parte Quindi, se in queste due settimane riuscissi a prendere un secondo Finn Balor potrebbe essere l'ideale di farlo pro Visto che non credo assolutamente di andare a prendere Shinsuke O perlomeno farlo pro sarà veramente difficile Mi dispiace più che altro per la gente che ha Finn Balor che lo ha già fatto pro In questo momento sarebbero serviti due Finn Balor Invece a questo punto dovrete per forza riprenderlo dall'altra camera di fusione Poi abbiamo comunque J-Styles, quello di Brestling Mini 3 Che forse è l'unica carta che manca delle camere di fusione di Brestling Mini 3 Quindi ancora non ce l'ho e non so se lo farò con queste altre Vedremo comunque se qualcosa abbiamo in serbo Se qualcosa abbiamo nel catalogo delle carte Ad ogni modo ragazzuoli, un minuto di silenzio per Shinsuke Nakamura che non prenderò mai Ma nulla ancora è perduto ragazzuoli perché Come avete visto dallo scorso video abbiamo preso Seth Rollins e lo abbiamo fatto pro Il nostro deck a questo momento è arrivato a Mostro più più metà Siamo a metà, ci manca quest'altra piccola metà per arrivare finalmente al deck Titano Questo è il deck principale, abbiamo 4 Vrestler Mostro Pro e 2 Dive Bestie Pro Dobbiamo soltanto trovare altre Dive Servirà soltanto una Diva Pro Mostro probabilmente per arrivare finalmente a Titano Io ho soltanto una Diva Mostro ed è Naya Jax Soltanto lei e ancora niente Però ragazzuoli si è aggiornata anche oggi la Money in the Bank e abbiamo Aska signori Aska Titano, la campionessa, la vincitrice del Royal Rumble E quindi ci impegneremo tantissimo per ottenere questa carta signori Ancora non sono state ancora aggiornate, mancano ancora 6 ore di tempo Io ho 6490 Credo comunque i contratti siano lo stesso, 22800 anche per Aska E poi vedremo quale sarà anche la seconda carta Non l'ho guardato se c'è già l'anteprima su Twitter, non l'ho ancora guardato Se c'è scrivete pure nei commenti qual è la carta Ma il nostro obiettivo è arrivare ad Aska Ragazzi presa Aska Titano Pro avremo praticamente raggiunto e superato di tanto anche il deck Il livello Titano Quindi l'obiettivo ragazzuoli è questo in questo momento Se riusciamo a fare Nia Jax Pro prima, bene Almeno riusciamo anche il deck Titano, prendiamo la Freebie e va benissimo Se no altrimenti prenderemo Aska, ci vorrà un mese di tempo Quanto sarà appunto il tempo necessario per prenderla Che sicuramente concederà anche con il tempo della Money in the Bank E quindi staremo a vedere Ad ogni modo l'ultima Battleground l'abbiamo vinta non di tantissimo Circa 4.000 punti di differenza Insomma però siamo in un'altra Battleground E abbiamo 23.000 Battle Point Sono tanti Io sto aspettando appunto che metta un aggiornamento di un pacchetto Titano Adesso andiamo a vedere quale saranno le carte che ci accompagnano questa nuova Battleground Carte di cacca Spero che comunque tutto quanto il deck avversario insomma sia abbastanza basso Dove sono io? 111 punti ovviamente ancora il più basso Ma perché sono sempre il più pippone? Perché questa cosa? Mmm no ragazzi Mmm ok ok Secondo me ok Non voglio tirare pronostici però Probabilmente lo vinciamo senza problemi dai Vediamo un po' Ci sono due posti liberi in squadra ragazzuoli Appena sarà finito il Battleground potete fare richiesta Due persone che siano mostro Vi accetterò volentieri Altra cosa qui comunque siamo in 22esima posizione Stiamo risicando e stiamo risicando la posizione Voglio vedere qui nel negozio Eccoci qua Bobby Roode Mostro È stata l'ultima nostra freebie Possiamo prenderlo Arriveremo a 5600 Compete di point Non ci vorrà Aspetta un po' Hanno aumentato le ricompense Aspetta Per esempio Brock Lesnar Questo è un 45 Possiamo prenderlo perché Fa parte della camera di fusione Forse anche il Brock Strowman Non lo so eh Vediamo un po' Se ci sono Cos'è? Ah giusto il retro delle carte di Shinsuke e Asuka Eh beh sono molto fighi però a cavolo No non ce le posso spendere Devo arrivare a Bobby Roode Mannaggia vedi? Sarebbe piaciuti Sono fighi i retro carte così Porca miseria Vabbè no Bobby Roode ok 27 giorni Riusciremo a prendere sicuramente Tantissimi competitive point Per prendere Bobby Roode Entro le prossime due leghe Sicuramente ce lo abbiamo Altra mostro però signori Benone 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 Ad ogni modo stiamo risicando Come ho detto la posizione Perché siamo in 22esima Alla 26esima siamo di nuovo Alla lega sotto eh Si ritorna in oro Si ritorna Quindi devo Tenermi stretta questa posizione Almeno Almeno 24esima 25 al massimo Altrimenti Siamo del gatto Come si dice a queste parti no? Ad ogni modo voglio andare a vedere Qui nella camera di fusione Quali sono le carte necessarie Davvero Se abbiamo tutto Per esempio Questa Sasha Banks è qui È Sasha bestia Lui È una bestia E ce l'abbiamo TJP Perfetto Possiamo metterlo Lui Mi sembra ce l'abbiamo Non me la fa vedere Perché l'ho bloccato Ma mi sembra Titus O'Neill Ce l'ho Una delle prime carte Le presi no? Tai Dillinger È stata l'ultima Ricompenza del battleground Signori Tai Dillinger Mostro Andiamo avanti No Non ce l'abbiamo Nient'altro di mostro Interessante Per la camera di fusione Mentre quelle bestie Abbiamo Mi sembra di sì Mi sembra ragazzuoli Era una ricompensa Di un evento Vediamo un po' Dove sta Dove sta Dove sta Non l'ho allen Dove sta Eccolo È lui È lui Mi sembra proprio lui Che punta il dito E poi non abbiamo Nient'altro di così E interessante Mamma mia Le carte bestie Ormai vabbè Sono passate Vediamo un po' Se davvero Era lui Signori Oh Bam Era lui Vediamo un po' Vediamo un po' Perché no Io penso comunque Siano necessari Tutti quanti O forse no Perché con Vedete Con TJP E Titus Onillo Ho preso 20.000 punti Sono carte bestie Mentre Con AJ Styles Che è un ultimate Però è pro Ho preso 25.000 punti Quindi C'è speranza O forse no Perché le altre sono mostre Quindi Non le farò mai pro E le butterò qua dentro Sicuro Mannaggia 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 Perché Posso prendere Shinsuke Per Ok Mi prenderò soltanto Aska Vabbè Mentre per lui Vedi Per lui È molto più semplice Il Brock Lesnar Quello Samus È quello che possiamo Prendere Competitive Poi lui Mi sembra Quello Temprato Sì Ok Temprato Samus Ok Cioè Lui Lo potete Prendere Tranquillamente O a questo punto Punto Affinbelor E ci facciamo Però devo Prendere Prima lui Annaggia È un bordello Io penso sia forse la carta più difficile da prendere Stavere veramente Perché non è che la prendi in un evento Con le tue carte che ci arrivi giocando No Qui deve averci culo e trovare le carte È diverso Porca miseria Vabbè A questo punto andiamo qua In Ring Domination Ci facciamo un match Vediamo un po' se troviamo una shard Tanto per riconoscere La carta bestia Poi magari scrivetemi nei commenti Qual è la carta mostro Se già lo sapete Perché quello che mi interessa è quello Pertanto sono tutti maschi Non sono dive Però Se dovesse essere una carta mostro Che posso fare pro La gioco più che volentieri Altrimenti Al 100% Mi butto sulla Money in the Bank Perché a questo punto Io voglio giocarmi proprio per Ascal Tutto per tutto Arrivare a Titano Proprio con lei Perché Averci una D.Va Pro Titano Mi porta davvero In un vantaggio Che non avete idea Già giocatela Se non avete preso AJ Styles O Jin Maha Della Money in the Bank Precedente Prendetevi Ascal O comunque Quell'altra Non so qual è Quell'altra carta Non so Potrebbe essere un'altra D Ma non lo so Potrebbe essere No Non credo la mettere Nella Money in the Bank Credo forse Probabilmente sarà La prossima carta Ray Mysterio Ci starebbe Tanto tanto bene Bel Ray Che non vediamo Dalla prima stagione Il grande ritorno Del Ray Mysterio 619 Signori Andiamo a un po' Se comunque portiamo a casa Questo match Per il momento Penso proprio di sì Chissà Chissà Chi sarà La prossima carta Che metteranno In un evento E chissà Se la prossima La prenderemo Perché Chi lo sa Potremo arrivare Benissimo Con Bobby Roode Eh sì Perché No La prossima settimana C'è la Road Glory Con la carta nuova Quindi no Non credo Nella settimana Arrivare a Bobby Roode Pro Con un'altra mostra Pro Forse arrivo a Titano In In Ring Domination Ma non sono così sicuro Non lo so Però se ci arrivo Beh Se non ci arrivo Pace Ci arriverò Prossimamente Cavolo Prima o poi Ce la faremo Dai Allora 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 Dai Vediamo un po' Se troviamo Una Shard Giusto per riconoscere La Superstar Ma non credo Ci rimangono altre due Cerco di pescare qui Dove magari c'è il nome Prima o la faccia Ormai non si vede più La faccia mai Non sarà mai La prima Shard Non c'ho mai Questa fortuna E niente Non sappiamo chi è Vabbè A questo punto direi Che comunque Il video continuerò In Domination Giusto per vedere Quali sono le carte Magari scrivete In un commento Se voi sapete Quali sono Almeno La Titano Vabbè Prendetevi anche la Titano Non è che mi interessa Più tanto Perché la Titano La giocherò soltanto Se è interessante La mostra Altrimenti non ci arriva neanche E mi butto al 100% Sulla Money in the Bank Visto che In questo momento Li do la massima priorità Visto che con Asuka Si spaccherebbe tutto Vediamo se possiamo fare Una pescata Di queste Vediamo un po' Vediamo un po' Possiamo No vabbè Ci vuole troppo Poi 10 biglietti Però con calma Poi tanto Non è che si trova Perché Si trova niente Se trovo qualcosa Ragazzone La clip La vedrete comunque Nel prossimo video Ad ogni modo Posso concludere A questo video Come alzò Se questo video Vi è piaciuto Invece lasciate Tanti Tanti like Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao